Gentili telespettatori, buona giornata. Che tenerezza, Lashlein, rimane in Italia per combattere Meloni. Oh, che valore, che partigianeria. Rimane in Italia per combattere Meloni. Lashlein ha utilizzato ancora il termine combattere. Voi sapete che i politici lavorano con le parole. E' possibile che ancora nessuno abbia detto a Elena, che si fa chiamare inspiegabilmente Ellie, che si combatte il nemico. Invece in politica ci si confronta con l'avversario. Combattere il nemico, confrontarsi con l'avversario. Elena, corso di politica basico, capitolo 1, primi 10 minuti di lezione. Tutti i politici seduti, il professore dice, ricordatevi che non si combatte il nemico, ma ci si confronta con l'avversario. In politica, in democrazia, non sono nemici, ma avversari. Nelle dittature sono nemici e allora finiscono in galera, cadono dalle finestre, spariscono, non si sa più niente. E questo è proprio il mio dubbio sulla effettiva democraticità che c'è nella testolina di questi qua a sinistra. Loro combattono. Non si confrontano, ma combattono. No Elena, non si combatte in democrazia, ci si confronta. Nessuno è capace a dirglielo? Dici, guarda Elena, sarai presuntuosa, sarai vendicativa, perché dicono che tutti questi capi politici sono vendicativi. Conte, Schlein, Salvini, Meloni, ho sentito dire che sono abbastanza vendicativi, dove nessuno osa dirgli niente, perché anche se a queste persone voi dite qualcosa di costruttivo, gli dite, guarda, ti dico una cosa, non ti offendere, ma è per crescere, per migliorare, no? Guai, a queste persone che si sentono toccati dal cielo, loro non gli puoi dire niente, perché loro non hanno nulla da apprendere da nessuno. Loro sono i capi e voi siete i discepoli, i sottoposti, quindi casomai sono loro che spiegano agli altri come funziona la vita. Se voi osate dire qualcosa a queste persone, la vostra carriera è finita. Quindi nessuno osa dire a Schlein, Conte, Meloni e Salvini, guarda che forse potevi fare diversamente, no? I consiglieri di questi capi politici, consiglieri, insomma, degli yes men, che li consigliano dicendogli quello che tu fai è fantastico, sei intelligentissimo, intelligentissima, bravissima, sei la raffigurazione plastica del buon governo, ecco, del buon capo politico. Sei come capo politico, sei perfetto. Io sono un consigliere ma il mio lavoro è praticamente nullo, perché sei talmente bravo o brava che io non posso fare altro che dire grandissime. Ecco, questi sono i famosi consiglieri intorno a queste persone, che ne sono nient'altro degli yes men, gli adulatori, che poi si possono chiamare anche in maniera un po' più terra terra, in altri modi che non posso dire, no? L'adulatore com'è che è? E' il classico... eh? Quello lì. E quindi è per questo che nessuno osa dire a Schlein, guarda che tu non devi combattere Meloni, devi confrontarti con Meloni. Ma lei dice, io rimango... mi candido all'Europa, ma non ci vado, rimango qui per difendervi, combatto la Meloni. Eh sì. La segretaria del PD dice, voglio dare una mano anch'io e sarò candidata per portare il più in alto possibile il PD. Noi, unico argine all'avanzata delle destre. E' una partigiana, eh? Tanto di cappello a questi comandanti partigiani. E poi lei dice, non metto il mio nome nel simbolo, ma mica lo volevo io, era Bonaccini, l'ha detto Bonaccini, mamma mia, mamma mia. Bonaccini, anche tu che gli dai retta, eh? E ti fai pure dire ste robe qua. Allora, intanto la Schlein è rimproverata dall'annunziata, che gli ha mandato un messaggio che ho scritto, ma il partito mica è tuo, mica puoi mettere il nome nel simbolo, no? Rimproverati dall'annunziata, una giornalista che lei candida, la Schlein lei candida all'Europa e viene pure rimproverata, rimprovera pure la Schlein, vabbè. E poi la Schlein dice, ma no, il mio nome nel simbolo, ma mica ero io, era Bonaccini, è colpa sua, lui l'ha detto, eh? Lui? L'ha detto lui, eh? Io, sinceramente, non voglio il nome nel simbolo, perché il partito è plurale, corriamo insieme, queste robe qua, però ringrazio chi voleva mettere il mio nome nel simbolo, è stato lui, eh? L'ha detto lui, mica io, eh? Ecco, ecco, io non voglio il nome nel simbolo, Ringrazio chi me l'ha detto, chi l'ha proposto, però io non lo voglio, eh? E quindi? Mancava che dicesse, eh, quindi? Bene. E allora interviene Bersani e dice, ma il no al nome è una scelta saggia, eh? E Prodi dice, io contro la Schlein, ma no, io do solo dei consigli, ecco, poi l'hanno attaccata, dicendogli, praticamente non vi dico esattamente perché cosa l'hanno fatta passare, e poi quando lei dice no al nome, perché è stato Bonaccini a proporlo, tutti prendono le distanze, dicono, ma no, decisione saggia, tu, Elly, sei meglio di quelli che mettono il loro nome nel simbolo, tu sei meglio della Meloni, tu sei meglio di Salvini, sei meglio di Berlusconi, Berlusconi? Eh, in Forza Italia c'è scritto Berlusconi, davvero? Eh sì, nel simbolo di Forza Italia c'è scritto Berlusconi, perché Berlusconi ancora attira, eh? Avete capito? Bene, funziona di più Berlusconi che non c'è più, di Salvini da vivo, che ho scritto Salvini Premier nel simbolo, vabbè. Marketing elettorale, lo hanno definito marketing elettorale, cioè, che poi è anche vero, mettere il nome nel simbolo è marketing elettorale, proporsi alle elezioni europee e poi non andarci, mettere il nome nel simbolo è semplicemente marketing elettorale, serve per prendere più voti, anche se poi è una presa in giro per l'elettorato, perché candidarsi alle europee è una bella presa per il... il? è una presa per il... tutti attendevano che rispondesse subito sul tema del suo nome del simbolo e l'ha fatto, prendendo le distanze, è stato Bonaccini, colpa sua. Arrivederci a tutti e grazie.